Buongiorno e buona Immacolata a tutti da parte nostra. Allora, oggi siamo qui intanto per augurarvi buona Immacolata e buone feste di Natale, anche se non sono le feste di sempre, però cerchiamo noi lo stesso di passarle in allegria, in quel poco che ci rimane, diciamo, delle nostre giornate di una volta. In ogni caso, ci teniamo a fare gli auguri di buon compleanno a una nostra grandissima e simpaticissima fan che ci segue dalla provincia di Vipo Valencia, precisamente da Sant'Onofrio, ed è Maddalena che ieri ha compiuto 18 anni. Tanti auguri Maddalena! Tanti auguri Maddalena, grazie che ci segui sempre. Purtroppo avremmo voluto farteli di persona gli auguri, non c'è stato possibile, ma sicuramente ci rifaremo. Tu continua a seguirci, che ti vogliamo bene. Un bacio! Purtroppo avremmo voluto farteli di persona gli auguri, non c'è stato possibile, ma sicuramente ci rifaremo. Buon bacio! Purtroppo avremmo voluto farteli di persona gli auguri, non c'è stato possibile, non c'è stato possibile, ma sicuramente ci rifaremo. Purtroppo avremmo voluto farteli di persona gli auguri, non c'è stato possibile, There. Purtroppo avremmo voluto farteli di persona gli auguri, non c'è stato possibile, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao e auguri ancora. Ciao e buon immacolato a tutti. Ciao Maddalena.